Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video che oggi voglio presentare La Mojang ragazzi avete già capito di cosa si tratta? Eh si esattamente Minecraft sulla Play Con l'iPad E purtroppo perché abbiamo perso la moda E come mi ricordate il video dell'auto che ho già fatto? Oppure vi ricordate invece quella volta dove avete fatto quel video Quando Giulia ha fatto quel video Eh puoi vedere Ha fatto quel video per l'iPad Vi ricordate? Andiamo sul nostro mondo GTRF E vi facciamo vedere la nostra skin Si E' una skin Guardate vai sull'inventario Giulia Guardate metti in aria Guardatela La skin di Aerobrine L'avete vista tutti? Eh mi piace ragazzi Ditemi se vi piace Scrivetelo qua sotto sui commenti E' veramente bella Dovete Allora Giulia mi fa entrare anche a me nella partita per favore Ok Allora Eh dovremmo ne faccio Ci abbiamo la stessa skin Lo sapete ragazzi Si può mettere E' una figata assurda Non potete capire Allora Vado anch'io Devo premere Sì Non posso Aspetta Dove sto ci